C'è la qualificazione per l'Italia Centro-Sud del CK di Confederazione Cara d'Italia d'O e come sempre siamo in prima linea, siamo pronti per partire solo che quest'anno per la prima volta la VKU ha un muovi atleti da buona parte d'Italia mentre prima ci muovevamo solo in Campania, cioè il nostro gruppo CESAM ora la VKU ha portato circa due pullman fra atleti, accompagnatori e quant'altro alla volta di Campobasso, questa è una prima qualificazione diciamo che gli atleti già in pole position come il Donadio ed altri già partono avvantaggiati e in ogni caso sono già nel limbo degli europei certo che queste qualificazioni gli accresceranno dei punti per portarli ai mondiali come ogni anno Carmine, per te si tratta dell'ennesima competizione, si inizia con Campobasso il tuo anno che gara ti aspetti e soprattutto qual è il tuo obiettivo? Sicuramente sarà una gara a livello altissimo perché comunque ci saranno ragazzi volenterosi che vorrebbero arrivare a partecipare al mondiale sicuramente non sarà una gara facile però noi della CESAM proveremo a conquistare questo pass che poi ci condurrà a Modena dove ci saranno gli italiani assoluti e poi ci sarà il mondiale a Bratislava al giugno dove proveremo a riportare di nuovo loro qua ad Avellino e poi ci saranno gli italiani assoluti